Pappalardo, molto più divertente di scazzi, io non mi vaccino. A me che me ne frega degli altri che si salvano, qua ci rimetto la pelle io, io intanto non mi vaccino. Giustamente una persona mi ha incontrato, generale io sto bene ma perché mi devo vaccinare? Quindi questa corsa al vaccino, poi si verrà scoprire che il vaccino fa causa delle trombosi cerebrali. Strade in diretta